A Gaza ogni 15 minuti muore un bambino. Fermiamo questa strage. C'è sale il fuoco! Una crisi alimentare. Tutto questo è inaccettabile e c'è un'unica cosa che è possibile fare, ovvero cessare il fuoco. Un cessato il fuoco immediato e duraturo e un accesso umanitario senza restrizioni. Oggi siamo qui e abbiamo portato tutti questi oggetti che dovrebbero popolare la vita di ogni bambino. C'è un'unica risposta alla guerra ed è solo la pace. Grazie. 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 Grazie.